Non una cartaccia, non una cannuccia, non una lattina. Marche Multiservizi ha fatto la sua parte. All'arresto ci penserà il senso civico dei bagnanti che a ferragosto potranno accomodarsi su spiagge libere tirate a lucido da un radicale intervento di pulizia. Merito della macchina Pulispiaggia in dotazione a Marche Multiservizi che per due giornate fin dalle prime luci dell'alba ha setacciato l'arenile nei chilometri di lungomare di Baia Flaminia e in quello compreso fra il Lido dei Carabinieri di Viale Trieste fino alle spiagge Sottomonte. Una tecnologia al servizio dell'ecologia. La macchina Pulispiaggia infatti lavora attraverso un sistema innovativo che con un doppio setaccio raccoglie e separa rifiuti con rapidità e efficacia. Un intervento doppiamente importante non solo per il decoro dell'arenile ma perché evita che i rifiuti finiscano in acqua contribuendo alla globale criticità di inquinamento dei mari. Soddisfatti i bagnanti e gestori degli stabilimenti per un intervento che si è canalizzato soprattutto nelle spiagge libere complementare alla quotidiana azione di pulizia delle spiagge private. Stabilimenti in cui quest'estate Marche Multiservizi ha anche potenziato le isole ecologiche per migliorare la raccolta differenziata.